Tu sei una cosa grande per me, una cosa che tu stessa non sai, una cosa che non hai già avuta mai, è una cosa così, è così grande. Ciao, sono Fabio Mariani, Tiziana De Carolis e insieme a Giorgio Roscillioni abbiamo prodotto questo CD Jazz Made in Italy, pubblicato e distribuito da Universal Music Italia e all'interno abbiamo anche due ospiti, a Mediovariano La Batteria e il grande Renzo Arbore con cui abbiamo giocato su un pezzo di Natalino Otto degli anni 40. Beh, abbiamo toccato tanti brani della musica italiana, ne abbiamo analizzati molti di più di quelli che poi abbiamo scelto per la tracklist del CD e il brano che abbiamo appena accennato era Tussina Cosa Grande, con cui il CD si apre, dove abbiamo trovato anche queste sfumature un po' ispaniche, un po' di flamenco, un po' di... che c'era nella natura originale del pezzo probabilmente. Però il viaggio è stato molto più lungo, molto ricercato, diciamo così, siamo andati a pescare le più grandi melodie italiane cercando di mantenerle esattamente come erano e il gioco era appunto rinnovarle, renderle più eleganti, più raffinate con nuovi arrangiamenti. Questo ha avvicinato certi brani che noi nella memoria abbiamo come pop li ha ripresentati in qualche modo, sono stati ripresentati in qualche modo come brani jazz e da qui nasce questo grande dilemma. Siamo più pop o siamo più jazz? Ma mi si nota di più se vado, se non vado. Vabbè, alla fine secondo me il jazz e il pop sono tag, sono una catalogazione che va bene nelle biblioteche, nelle discoteche. Un musicista suona qualunque cosa col proprio linguaggio, per cui pop, jazz, alla fine la differenza forse sono gli assoli ma fondamentalmente abbiamo suonato la musica italiana da italiani che conoscono anche il jazz. Già's made in Italy. My question is really cool in . Thank you, l'igenera, Ihhh. IcHio! When a boom made, Grazie.